Spiagge Sicure 2020 è il progetto entrato in vigore dal mese di luglio. L'iniziativa, nata nel Comune di Sorso per il controllo del litorale, è stata finanziata dal Ministero dell'Interno con 40.000 euro. Un progetto ideato dagli assessorati alla pulizia locale, amministrativa e dalle attività produttive e sostenuto dal sindaco Fabrizio De Melas. Si avrà un vero e proprio monitoraggio su tutta la spiaggia di Sorso, fondamentale per assicurare la tutela della salute dei bagnanti, ma anche per contrastare l'abusivismo commerciale lungo la fascia costiera, tutelando in questo modo i piccoli commercianti locali e incintivando i turisti agli acquisti in piena regola. La sorveglianza sarà effettuata dagli agenti tramite l'ausilio di un moderno quad a due posti. L'uso del mezzo consentirà un controllo più accurato su tutti i pettini. Nelle principali discese verso il mare, l'amministrazione comunale ha installato cartelloni digitali dove sono riportate, attraverso il QR code, tutte le normative vigenti da rispettare, come i divieti per la vendita e l'acquisto di merci contraffatte, le regole contro la diffusione del virus e di comportamenti da adottare in spiaggia.